Vicinanza e solidarietà alla famiglia e al suo partito. È stato ovviamente un avversario politico con il quale ho avuto molte occasioni di interlocuzione quando ero segretario dei DS, nella diversità anche profonda di posizioni, però sempre stato un avversario leale con cui c'era una discussione franca, sincera, in cui ciascuno esprimeva i propri punti di vista. Ma diciamo che si chiude certamente un ciclo politico durato 30 anni, da quando nel 1993-94 Berlusconi si è affacciato sulla scena politica e la sua presenza sulla scena politica italiana ha aperto le strade alla destra. Fino a quel momento la destra non era credibile agli occhi dei cittadini come forza di governo del paese, Berlusconi gradualmente, prima con Forza Italia, poi costruendo un'alleanza più larga, ha aperto le porte del governo e della guida del paese alla destra.